il box doccia del corpo della carne c'è pure quello dell'anima però il box doccia mi chiudo dentro devo prendere il bagno schiume paro si è staccato tutto è scappato fuori dal binario mi stai imparato mi sei paccato camicia ma cosa non è giustato ma Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Se fosse per me ci staria mezza giornata sotto la doccia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Questa è la melodia che ho inventato dello scorrere del tempo. Il tempo passa anche se tu non vuoi. Quindi nessuno può fermare il tempo. Ci assadisce questa colonna sonora. È quasi funebre. Perché il tempo si mangia tutto. Omm... 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 La 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 E' tragica questa melodia, oltre che funebre, rappresenta l'inde, l'inde fine. La 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 Grazie a tutti. adesso comincia a fare la sauna, invece lavore io avevo questa doccia, ve cont'è quattro giorni che non me lavo più, era ora, adesso mi fa una doccia che mi dura una settimana, dell'avaggio, aveva una settimana non me lavo più, piano piano divento come il signo Mario, non se lavo più apposto, a pezzi, il mambo, apposto, basta un po', come tutte le cose quando è troppo esagerati stufa, allora, bisogna che me la fò finita, pure questa canzone mi ha stufato, oh, ne sa di, sa di cosa ne sa di? De fiato de nonna Pincina? com'è che ne sa di nonna Pincina su Ushurama? forse è stato spaso mentre la gente dormia e c'era l'alito demoniche consumato, l'alito anni 90 consumato, guarda un po', guarda eh, la madonnina, allora, l'è bella, la madonnina piena di grazie nelle mani e scende le grazie, la luce, la luce più lucente del sole e delle grazie della madonnina, che tutti noi se chiediamo le grazie nel nome di Gesù ce le dona, ma se le chiediamo, se noi le chiediamo, rimaniamo chiusi nell'oblio del maligno e dopo siamo mancanti delle grazie che ci avrebbe donato se lo chiedevamo, dobbiamo chiederlo, le grazie, vado e mi asciugo i capelli, mi asciugo i capelli, va? oh, pensate albergo anni 90, l'aria che sta qua fuori, grazie a tutti, Grazie a tutti. 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 Oh, su colore pare interni nella cassa da morto anni venti. Ma mi sai che colore da cassa da morto? Sono incassato, signori e signori. Ciao, fine. Grazie a tutti.